Il tempo non esiste. E' la convinzione di un pittore italo-calabrese, Pino Conestabile, che utilizza il tempo, come stiamo vedendo adesso. Chi ti ricorda questo orologio, Gaiana? E' il mio amico Salvador Dalì. E' stato tuo amico, Salvador Dalì. C'è già uno che ha avuto l'amicizia di Salvador Dalì. Facciamolo vedere questo orologio di Salvador Dalì. Voilà. Era Amanda Lir, di cui parleremo poi la prossima puntata. Spero che questo orologio raggiunga, per favore, il centro del video, anche se non vediamo per un momento la Gaiana. Voilà. Allora, visto l'orologio di Salvador Dalì, dobbiamo parlare di Pino Conestabile. E naturalmente ne parliamo seriamente. Pino Conestabile ha scritto recentemente un ponderoso libro di 200 pagine per dimostrare tre cose. Una, che il tempo non è un'entità aritmetica. Cioè, il tempo è qualcosa di astratto. Beato lui, perché io il tempo mi comanda tutti i giorni, dalla mattina alla sera, ed è tiranno, come si suol dire. Due, che esiste un fatto cosmico di conseguenzialità, e lo vediamo in queste opere. Quindi c'è tutto il cosmo che ci comanda, e su questo possiamo anche essere molto d'accordo. In terzo luogo, che è l'arte astratta ad essere più vicina all'uomo dell'arte figurativa. E su questo, naturalmente, Pino Conestabile apre una voragine tale, che ci porta poi a dover constatare effettivamente se siamo, come si potrebbe dire, animali figurativi, o se siamo animali dediti alla casualità, all'astrazione. Naturalmente avrete capito, anche perché state vedendo le immagini in questo momento, tutte le opere, o quantomeno le teste di serie delle opere di Pino Conestabile, che l'artista è, oltre che un pensatore, e beh, è un pittore, intanto che sa scrivere, augurabilmente sa anche leggere, e soprattutto, perché non è sempre così, non sempre gli artisti sanno esprimere quello che fanno, in pratica. Io ricordo negli anni Ottanta a Milano, che si diceva, l'artista fa il quadro e il critico spiega che cosa ha fatto l'artista, in pratica. Nel caso Conestabile, invece, abbiamo il pittore che realmente spiega che cosa vuole dalla sua arte. E lo vediamo in queste volute grafiche, dove il cosmo entra in quanto particella di massima grandezza. E poi, naturalmente, il conestabile via via scende fino al minimale atomico, come vediamo in questi tondi, in pratica. Voilà, la copertina l'abbiamo data proprio per questa ragione. Ricorderete che nelle scorse settimane, per esempio, abbiamo dedicato la copertina una pittrice che lavora esclusivamente con le mani, senza pennello e senza alcuna attrezzatura e quindi meritava la copertina. Oggi la copertina l'abbiamo fatta meritare assolutamente, l'abbiamo assegnata a un pittore che pensa.